Ciao carissimi, eccoci qua cari amici appassionati di vecchi camion abbiamo la fortuna così, il piacere di avere un attimo in sfumatura qua il bravissimo Valerio, appunto delle zone del Bolognese che appunto ha questo bellissimo millepiedi che avevamo visto tempo fa in sfumatura un bellissimo Fiat 691 che abbiamo detto Valerio del 1972 1972, adesso vi facciamo vedere dal rimorchio la sua motrice e qua Valerio cosa mi dici? Che era in buone condizioni? No, è stato fatto tutto, freni, carelli, pernifusi quanto tempo ci hai messo per completare un po' tutta questa opera? Due anni e mezzo la voglia c'è, tu comunque sei sempre stato un grande appassionato di camion la voglia c'è, hai visto qualche filmato e hai detto voglio partecipare anche io ai raduni tra amici e qua Valerio si è messo sotto hai visto tutto originale, targhe ancora, neri si, ecco qua ragazzi guardate il rimorchio, quattro asci come piace a me, insomma un vero millepiedi questo vieni qua Valerio, appunto era nelle tue zone, è stato facile trovarlo? si, 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 era proprio lontano da casa, 10 km tu ci avevi già messo l'occhio, vero? ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua adesso questo camion è stato fatto uso storico non ancora non ancora, potrebbe ancora fare qualche servizio? unigliani fa qualche viaggio ecco per cui è ancora operativo ragazzi guardate qua, bravo Valerio lo utilizza ancora per qualche viaggio ecco qua sentiamo il suo sound intanto cosa ti piace di più di questo camion? tutto insieme c'è tutto insieme, c'è qualche particolare che cambio il cambio ecco qua ecco qua cari amici, adesso vi passiamo a vedere questo bellissimo Fiat 691N di Valerio guardate qua che spettacolo motrice e rimorchio macchina e rimorchio come direbbe il nostro amico Pasquale grande fotografo eccolo qua eh 6,91 motore originale Valerio ecco qua sul motore originale scaletta qua adesso vi passiamo a vedere la cabina la cabina la cabina la cabina la cabina la cabina tutto originale tutto originale come dice Valerio ecco qua ecco qua dotato di brandina come vedete alto comfort cruscotto cruscotto in buone condizioni l'hai trovato così o l'hai sistemato perché il sole è un po' così hai rifatto tutto quanti chilometri ha più o meno? 999 999 ah guardate qua 991 km guardate qua radio contatto di cimi guardate qua che spettacolo bello bello e adesso qua Valerio fra poco uscirà e avremo così e avremo così le brezza valendo l'antigato eccoci qua ragazzi appassionati di appassionati di appunto di di camion Valerio me lo sposti un attimino così dai vai avanti indietro ecco qua eh vai un po' avanti un po' indietro intanto noi così ce lo godiamo un po' eh in mezzo alla gente qua eh guardate qua che spettacolare mille piedi eccolo qua in mezzo alla gente bravissimo vai un po' indietro o parti subito va bene dai vai un po' indietro oh dammi una rombata Valerio dammi un ecco bravo vai ecco qua ragazzi io ve l'ho presentato profumo di nafta c'è grazie Valerio guardate un po' qua 691 guardate qua che spettacolo l'abbiamo fatto vedere tutti tutto ecco qua ecco qua grazie Valerio ecco qua grande Valerio appunto grande appunto collezionista di camion eh tra l'altro questi camion ancora operativi eh ricordiamolo eh guardate qua grande eh socio di Valerio fammi un saluto come dice è piacevole viaggiare su questo camion sì 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 ecco qua eh brivido ragazzi guardate qua che mille piedi uno dei più bei mille piedi che ho visto in Italia guardate lì Valerio un uomo barbutto vero appassionato di camion e poi caro Valerio hai tutta una serie di camion che dobbiamo venirti a trovare eh come provare sogno del cassetto di Valerio 690 trattore ragazzi segnalate segnalate 690 trattore a Valerio un'impresa un po' difficile però insomma ci sta grazie Valerio di tutto eh spettacolo ciao a tutti ragazzi ve l'ho documentato vediamo un po' se esce intanto dai che esci ecco qua eh intanto mettiamo in sfumatura così guardate qua che spettacolo eh questo 691 pazzesco Alessandro questo è un po' il raduno qua in Trentino appunto che ci ha regalato appunto la presenza del bravissimo Valerio abbiamo dedicato così un servizio un po' così alla buona eh vediamo qua chiaramente la corriera Pia 306 dalla via appunto della collezione Dario Bosio presente c'è per le raduni anche perché insomma corriere insomma non se ne vedono proprio molte e lei vi ho fatto vedere un po' il tutto eh eccoci qua cari amici portiamo a casa traccia scumature qua scumature qua la raduno scumature qua la raduno scumature qua la raduno abbiamo 682 appunto di catadori la corriera qua in uscita e ragazzi con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima ragazzi ciao a tutti dalle locere di Caldonazzo saluto un po' tutti gli amici appassionati di questo canale e appassionati di mezzi vintage ciao a tutti ancora una volta il Trentino è stato vincente come scenario e ospitalità appunto tra queste montagne il camion d'epoca possono ancora parlare di tutto Dato ciao a tutti alla prossima vediamo un po' se esce Valerio qua eh ecco qua cari amici vi saluto alla prossima vi saluto